L'amministrazione ha accolto la richiesta di proroga dell'amministratore di Casa Lucia nell'interesse esclusivo delle famiglie e degli ospiti. L'ufficio preposto sta predisponendo l'atto nei termini più adeguati e ci riserviamo di mantenere costante il rapporto con le famiglie valutando ogni altra iniziativa necessaria per loro. Con queste parole il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti annuncia una nuova svolta in merito alla Casa Famiglia Armonia in zona Giotto chiusa nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale. Abbiamo deciso di procedere alla proroga in particolare per andare incontro alla richiesta che i familiari degli ospiti di Casa Lucia mi hanno personalmente fatto proprio per permettere loro di trovare una soluzione alternativa, prosegue il vice sindaco. Sarà valutata una proroga la più adeguata possibile rispetto al contesto. Questo tempo ci auguriamo venga anche utilizzato dalla società che gestisce la struttura per regolarizzare la propria posizione potendo al più presto tornare operativa. Come ho già sottolineato, la vicenda ha riportato alla luce un vulnus nella normativa che regola questo delicato settore che ha urgente necessità di essere rivisto e corretto. Il benessere dei nostri anziani e il sossegno alle loro famiglie, conclude Lucia Tanti, sono una priorità sostanziale alla quale va riservato il massimo dell'attenzione.